A Livorno il Pescara chiuderà un 2014 in chiaroscuro, un anno fra alti e bassi che tutti sperano possa concludersi con il classico botto. Vincere in terra toscana per poi ripartire alla grande a metà gennaio, vincere per avvicinare la zona playoff che dista quattro lunghezze, vincere per lanciare un messaggio ai tifosi e anche al campionato. Ci sono tanti motivi per fare risultato al picchio di Livorno, una vittoria che sarebbe ben augurante dopo una prima parte di stagione che ha visto il Delfino rendere meno del previsto. Il bilancio non può essere positivo ma è anche vero che nelle prime 20 giornate sono state tante le avversità con infortuni a catena che hanno riguardato un po' tutti i giocatori della Rosa. 25 punti in 20 gare rappresentano però un bottino che non può far fare salti di gioia. 25 punti sui 60 disponibili non era quello che ci si aspettava anche se il campionato deve ancora arrivare al giro di Boa e il tempo per recuperare non manca. Ma è chiaro che la squadra deve allungare il passo. I cinque risultati utili consecutivi rappresentano però un buon inizio. Fino ad oggi il Pescara ha vinto sei gare con sette pareggi e altrettante sconfitte. Quello biancazzurro è il terzo miglior attacco del torneo dopo quello della supercapolista Carpi e del Trapani. Maniero con dieci reti è il terzo miglior marcatore del torneo seguito a ruota da Melchiorri con nove. Non altrettanto brillanti i numeri della difesa con 27 reti al passivo. Il Pescara ha infatti una delle difese più perforate anche se nelle ultime giornate il trend è in miglioramento. Ora Livorno e poi la lunga sosta. Nella gara di domani Baroni nella sua Toscana recupererà Pesoli e Ciosic ma perderà Zuparic squalificato. Probabile il ritorno delle ex Carpi al centro della difesa con Salamon con Brungban che dovrebbe invece tornare al posto di Selasi a centrocampo. Per il resto non sono previste grandi novità rispetto alla gara con il Varese nonostante si torni in campo dopo appena quattro giorni. Fra i labronici tornerà Ceccherini dopo la squalifica. Nel 4-3-3 di Gautieri dovrebbero trovare spazio gli ex Biancazzurri Luci, Vantaggiato e Cutolo. Livorno-Pescara ore 18 sarà diretta da Abisso di Palermo alla prima con i Biancazzurri. L'albanese Levian Memushay fra i migliori nella gara con Varese non nasconde l'importanza della posta in palio. Sì sicuramente è una partita importantissima e se vogliamo ambire a qualcosa di più queste sono le partite fondamentali che ti fanno fare il salto per vedere se puoi lottare per lassù o fare un campionato così così. È una partita importante dove bisogna prepararla bene, ci sono pochi giorni ma anche per loro hanno pochi giorni.